Ciao a tutti, bentornati in questo nuovissimo video. In questo nuovissimo video vogliamo tornare a parlare di anime anni 80? Beh sì! E oggi parleremo proprio di un cartone cult degli anni 80 e parleremo di... Dai, getta dietro a te ogni nuvola che c'è. Sai, già non piove più, sento già un profumo di blu. Se ti capiterà che una spina ferirà, tu stringi pugno e aspetta, senza fretta, Sandy Bell. La fortuna è già vicina, bravo e tumbe viole, bravo, verde, piccolina, Sandy, Sandy Bell. Ello Sandy Bell! Allora, di che cosa racconta Ello Sandy Bell? Racconta la storia di una bambina di 12 anni che vive in un piccolo paese della Scozia e vive insieme al padre. Sandy Bell non ha mai conosciuto la madre. Il padre era il maestro del piccolo paese. Sandy Bell si divideva fra scuola e amici. Suoi amici erano i bambini del paese, che la vedevano un po' come una sorella maggiore. Sandy Bell aveva 12 anni. Vicino al piccolo paese c'era un piccolo castello, che era sempre rimasto vuoto. A un certo punto in questo castello va ad abitare una signora, la signora Wellington, che diventa una grandissima amica di Sandy Bell. La signora Wellington vuole così bene a Sandy Bell che un giorno le regala un fiore, un narciso. Sandy Bell rimane stupita di questo perché suo padre gli aveva detto che il narciso era il fiore preferito di sua madre, la madre che lei non aveva mai conosciuto. Nel frattempo Sandy Bell aveva anche cominciato a coltivare un piccolo giardino e al centro di questo giardino c'era proprio il narciso, perché questo giardino era in onore della mamma che lei non ha mai conosciuto. Un giorno mentre era in quel giardino incontrò un ragazzo, non sapeva il suo nome, quindi comincia a chiamarlo il principe del giardino. Il principe del giardino in realtà era Mark, il figlio della signora Wellington, che era fidanzato insieme a Kitty, una ricca, viziata, figlia di un industriale. Kitty, visto il rapporto che si era creato tra Mark e Sandy Bell, nonostante Sandy Bell fosse ancora una bambina di 12 anni, è celosa di Sandy Bell. Egli ne combina veramente di tutti, di tutti i colori. A un certo punto i genitori di Mark hanno un brutto incidente stradale e muoiono entrambi e quindi Mark rimane orfano e rimane in questo castello insieme a Kitty. Mark non vuole stare con Kitty, Mark ha un sogno, diventare un pittore. Così un giorno decide di scappare, ma prima di scappare scrive una lettera a Sandy Bell, dove dice che tornerà a prenderla non appena lui sarà diventato un grande pittore. Però, nel frattempo, il padre di Sandy Bell, che ormai sono anni che è malato di cuore, ha un brutto attacco di cuore. E in punto di morte dice a Sandy Bell che in realtà lui non è il suo vero padre, ma l'ha salvata da un naufragio. E che quando ha salvato questa bambina, in mano aveva stretto a sé un orecchino a forma di Narciso. Lesney, prima di morire, fa promettere a Sandy che andrà a Londra e chiederà del suo amico Rondorf, che potrà aiutarlo. Così Sandy Bell, dopo la morte del padre, prende parte per Londra. Appena trova questo signore, gli racconta quello che è successo. Questo signore è molto dispiaciuto di sapere della morte del suo amico. E quando vede Sandy Bell, decide di accoglierlo nella sua famiglia. Però, la moglie Honor e la figlia Eva non sono d'accordo, perché la vedono come un'invasione, come se questa ragazza invada la loro famiglia. E quindi cercano di fargli tutti i rispetti possibili per fare in modo che Sandy Bell se ne vada. Ma Sandy Bell decide di continuare a restare lì. Perché? Perché l'aveva promesso al padre in punto di morte. Ma col suo carattere dolce, tenero, simpatico, Sandy Bell alla fine conquisterà tutta la famiglia. Sandy Bell decide di andare a lavorare per il Rondorf News, il giornale dove lavora il signor Rondorf, e diventare una reporter. Quindi Sandy Bell viacerà per tutta l'Europa, con il suo capper. Ma Kitty decide di andare a Londra. E a Londra incontra proprio Sandy Bell. Kitty sta cercando Mark e quindi è convinto che Sandy Bell sappia dove si trova Mark. E quindi decide di diventare anche lei una giornalista e seguire Sandy Bell. Ma durante questo loro periodo conoscono un altro giornalista. Naturalmente Kitty era diventata giornalista di un altro giornale, non del Rondon News. Però seguendo Sandy Bell conoscono un altro giornalista, Alec. Alec è un giornalista di cui nessuno si fida. Dicono che sia un poco di buono. E anche le due ragazze all'inizio, quando cominciano a lavorare con lui, non si fidano di lui e molto spesso le fa trovare nei guai. Però alla fine questo Alec si dimostrerà essere un vero e proprio amico per entrambe, sia per Sandy Bell che per Kitty. Kitty in questo periodo si accorge che non è più innamorata di Mark. No, che non prova più niente per Mark. E il padre di Kitty è felice perché dice io non voglio un genero che sia un pittore. E quindi Kitty scopre, insomma, comincia una relazione insieme proprio al giornalista Alec. Nel frattempo Sandy Bell scopre dove si trova la sua vera madre. Si trova in un convento in Corsica. Ma quando la incontra scopre che sua madre ha perso la memoria, proprio in quel naufragio. Ma quando rivede questa ragazzina, Sandy Bell, sua madre ricomincia a ricordare quasi tutto. Ma nel frattempo non solo Sandy Bell ha ritrovato sua madre, la vera madre, ha trovato la vera madre, ma ha ritrovato anche Mark. Esatto. E così finisce Sandy Bell. Beh, io voglio aggiungere un'altra cosa. Altre due cose. Allora, Sandy Bell aveva avuto un grandissimo successo e grazie al successo di Sandy Bell erano stati fatti tantissimi giochi. E quello che ha avuto più successo era sicuramente il camper con cui viaggiava Sandy Bell. Voglio dire un'altra cosa. Sandy Bell, dovete sapere che la doppiatrice di Sandy Bell è la stessa doppiatrice di Lady Oscar. Ebbene sì, Lady Oscar e Sandy Bell hanno la stessa doppiatrice. Ma queste sono piccole cose che volevo aggiungere io. Sì, perché mi piaceva aggiungerle. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete pollici in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere di quale altre anime volete che parlo. Per me riscoprire Sandy Bell è stato bello. Quindi vi mando un bacio enorme, un sorriso enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti